La famosa influencer è morta insieme a suo padre in un incidente aereo, ma prima di iniziare il video ti chiedo di iscriverti al canale e mettere mi piace, grazie. La donna stava pilotando il suo piccolo aereo lo scorso giovedì, quando, per motivi ancora da accertare, è precipitata all'improvviso, andandosi a schiantare in una zona boschiva. Inutili sono stati i soccorsi, l'influencer e suo padre sarebbero morti sul colpo. Un terribile lutto colpisce il mondo del web. La famosa influencer è morta giovedì scorso in un incidente aereo e con lei c'era anche il papà. I due stavano affrontando un volo di 290 chilometri. Lascia un commento per rimanere vicino alla moglie e alla mamma. L'influencer si trovava alla guida del suo piccolo aereo quando, per motivi ancora da accertare, ha perso quota e si è schiantata in una zona boschiva. L'influencer su YouTube aveva circa 16.000 iscritti e caricava video di lezioni di volo. oltre che di viaggi sul suo aereo personale. Questa volta, però, qualcosa è andato storto. I soccorsi sono stati veramente inutili. Jenny e il padre sarebbero morti sul colpo. Lo schianto, infatti, sarebbe stato fatale per loro. Già lo scorso novembre, Jenny era alla morte effettuando un atterraggio d'emergenza durante un volo. Grazie per aver visto il video e se ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale.